Giovedì 8 e venerdì 9 marzo il Palade Andrè di Ravenna ospita il 17esimo congresso territoriale UIL sul tavolo i temi di fisco e pensioni. Siamo con Riberto Neri, segretario uscente in carica dal 2004. Qual è il bilancio di questo lungo mandato? Il bilancio è senz'altro positivo perché c'è stato un considerevole salto di qualità sul piano appunto anche del sistema dei servizi, della presenza sul territorio. Abbiamo investito molto sul territorio, tant'è che oggi abbiamo 11 sedi tutte rinnovate e quindi tutte potenziate anche sul piano della presenza delle risorse umane, quindi dei sindacalisti e degli operatori dei servizi. Abbiamo raggiunto un buon livello di iscritti, siamo passati da 22.000 a 27.000 iscritti in questi 14 anni. È un dato che noi consideriamo assolutamente positivo. È chiaro che bisogna fare di più, bisogna fare meglio, però da questo punto di vista ci sentiamo tranquilli. Tanti temi all'ordine del giorno, ma in particolare si parla di fisco e di pensioni. Qual è la situazione? Si parla di fisco e di pensioni perché sono i due elementi che in maniera emblematica sintetizzano il concetto che abbiamo noi di politica dei redditi. Dal fisco passa la politica per creare ricchezza e ridistribuirla. Dalle pensioni, come da tutto il sistema sociale, passa la strategia che in qualche modo intendiamo proporre per distribuire questa ricchezza in maniera equa, perché se c'è un dato assodato in questi ultimi anni è che il Paese si è sostanzialmente impoverito dal punto di vista sociale. Grazie. Grazie a tutti.